Sapete cosa succede tante volte quando uno si rivolge alle assistenti sociali, alle istituzioni per chiedere aiuto? Che passi automaticamente dalla parte del torto, del deficiente, quello che probabilmente ha fatto qualcosa o è fuori di testa, per cui ci si può permettere anche di prenderlo per il culo e ledere la dignità di una persona, perché questo è successo a me personalmente, lo sto testimoniando, lo testimonierò sempre di più con carta canta, con documenti alla mano, quindi sono visibilmente alterato, non da sostanze stupefacenti, semplicemente perché ho visto di nuovo violare la mia libertà personale dopo essere sceso a compromessi e fatto degli accordi con direttori della Caritas e rappresentanti delle istituzioni. Bene, la fiducia è venuta a meno, adesso mi dovete arrestare perché io occuperò di nuovo e a seconda di chi busta la porta e in che maniera verranno a conferire con me, io mi comporterò. Quindi, violenza per violenza, se vieni con la violenza tu da lì non esci vivo, manco io, quindi se la volete rischiare ve la rischiate. La casa non è un diritto, è una necessità, le case vuote ci sono, si continuano a proporre social housing eccetera, per quanto siano belli i posti, ci sono determinate circostanze dinamiche che non possono essere accettate dalle persone in difficoltà, perché non siamo tutti stupidi, non siamo ignoranti, non siamo a prescindere dalla parte del torto perché siamo in difficoltà, perché a questo punto, lo dico e lo ribadisco, io occuperò di nuovo, se venite a buttarmi fuori con la forza sono cazzi vostri, punto.